Cari amici di Piercad 3D, questo video non è un video di carattere didattico, è un video solo per augurarvi una felice Pasqua a voi e a tutte le vostre famiglie e ai vostri cari in generale. Spero che sia una Pasqua di Ressurrezione, è già da un anno che lottiamo con questo Covid, anzi anche di più, e spero che da qui in avanti ci sia una ripresa reale e concreta. Spero che il mio corso vi aiuti, vi abbia aiutato anche in questo periodo di questa crisi, sono certo che è stato d'aiuto per molte persone che me l'hanno anche comunicato, ringrazio quindi anche per aver condiviso con me e i loro progressi e niente, quello che vedete è un basso rilievo, l'ho fatto io, in realtà ho praticamente fatto una foto a una formella di un basso rilievo del mio maestro Carlo Chiodini, come anche quello precedente che qualcuno avrà visto relativamente al corso di Carpenteria Metallica, quella dell'apprendista. Questa è una realizzazione di un basso rilievo di Carlo Chiodini, mio amato maestro di pittura e scultura, e io ho voluto riprodurre fedelmente la sua interpretazione di questo Cristo. Carlo Chiodini non era un credente, ma aveva una spiritualità molto accesa, leggeva molto la Bibbia e leggeva anche il Vangelo, era un fanatico di Gesù, ma lo vedeva come uomo. Infatti, se notate, questo è l'unico crocifisso che potrete notare che abbia i piedi degli astanti, quindi della madre, del santi e delle madonne che gli stavano vicino, tutte le persone che stavano vicino, hanno gli piedi alla stessa altezza, non era lassù sulla croce, ma era laggiù, sulla croce con loro, quindi lui vedeva un po' come Fabrizio De Andrè, Cristo, non figlio di Dio, ma figlio dell'uomo, fratello anche mio, diceva una canzone di De Andrè. Quindi io, con questo omaggio al mio maestro, faccio gli auguri anche a voi, e vi invito a continuare a seguire il mio corso, se non l'avete concluso. Se l'avete concluso, andate a navigare in lidi più alti e buona fortuna. Comunque, una buona Pasqua a tutti.